Nei primi cinque mesi del 2015 la Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto 51 responsabili di reati fiscali e 13 evasori totali, individuando 130 posizioni lavorative irregolari, di cui 100 in nero, e denunciato 657 fittizi braccianti agricoli. Un fenomeno però che non riguarda solo la provincia di Cosenza, ma l'intera regione. All'inizio di giugno, infatti, le fiamme gialle di Catanzaro hanno segnalato alla Corte dei Conti un danno erariale per 3 milioni di euro per illecita percezione di finanziamenti pubblici in materia di disoccupazione agricola, maternità e malattia. Qualche mese prima i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno denunciato per truffo a 21 titolari di aziende agricole e 323 falsi braccianti agricoli, segnalando un danno erariale cagionato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale pari a oltre 2 milioni di euro. Un cliché collaudato che si ripete è oggi l'ennesima operazione che ha portato alla denuncia di altre 132 persone e accertato un danno erariale di circa 450 mila euro, attestando 6 mila giornate lavorative fittizie, grazie alle quali sono stati poi intascati indebitamente indennità di malattia, sussidi di maternità e assegni familiari. Il centro della frode è a Rossano, dove tramite falsi contratti di fitto o comadato di terreni è stata documentata l'Inps una disponibilità di fondi agricoli idonei a giustificare dal 2010 al 2013 l'assunzione di 131 operai agricoli a tempo determinato.